we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone daie can you hear the dream we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder ragazzi fortbyte numero 8 disponibile da pochissimi minuti amo andiamo a prenderlo questo fortbyte parla qua sempre nel microfono eccolo si trova ragazzi al crocevia del ciarpame dicono dentro la casa come vedete c'è già un sacco di gente che infatti si sta dirigendo e adesso cerchiamo di seguirli ragazzi e di capire anche noi dove sia esatto qual è la posizione corretta vediamo un po dove si ferma la gente si stanno già scannando non ci sto credendo sappiamo a che piano è sappiamo la posizione del fortbyte non lo vedo tipo vicino il letto circa se c'è gente quindi vorrei evitare di essere ammazzato male mi stanno già sparando vediamo se lo troviamo non so dove è il fortbyte un momento che c'è un casino eccolo ragazzi fortbyte numero 80 l'avete visto ragazzi fortbyte numero 80 è vicino al letto nella casa mi raccomando prendetelo anche voi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao